Nella terza settimana di Quaresima torna il Dona Cibo per le famiglie bisognose della diocesi Lanciano-Urtona all'interno degli istituti comprensivi. A Lanciano aderisce alla raccolta promossa dal Banco di Solidarietà anche la Scuola Primaria Principe di Piemonte, dove Maurizio, Nicole, Alessandro e Francesca della Quarta B spiegano l'iniziativa al Tg Max. Il Dona Cibo è una raccolta di alimenti per le persone più bisognose, cioè che non hanno cibo o che hanno i soldi soltanto per comprare un solo alimento. Questi alimenti devono essere non deperibili. Si possono portare alimenti non deperibili, cioè a lunga conservazione, come i legumi, tipo i piselli, i fagioli, i ceci, le lenticchie o altri legumi. Si può portare il tonno, si possono portare dolciumi come snack, merendine, biscotti. La pasta si potrebbe portare solo che l'hanno già, si può portare l'olio, il tonno e altri alimenti. Solo che non si possono portare le mozzarella o robe da frigo perché se no dopo un giorno si rovinano. Nel mondo ogni anno ci sono oltre 840 milioni, secondo la FAO, di persone che soffrono la fame e oltre 2 miliardi di persone che sono malnutrite. Malnutrite significa che mangiano poco o sempre lo stesso alimento. Questo può portare ad alcune carenze alimentari che possono causare alcune malattie. Facciamo questa cosa per dare il cibo alle famiglie più povere perché dobbiamo pensare anche agli altri e facciamo anche questa cosa per farci stare bene. La scuola è una comunità educante, sottolinea il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Umberto I Lorenzo Iocca, mentre la maestra Paola Sciarra sottolinea la sensibilità dei bambini. Noi riteniamo che sia prima di tutto un modo per andare incontro agli altri e dimostrare la nostra disponibilità, ma anche e soprattutto direi che riteniamo che sia un modo per educare i bambini e formarli, e formarli appunto al rispetto degli altri, all'aiutare gli altri ad essere sempre disponibili. Ogni anno i bambini sono molto sensibili, partecipano con molto entusiasmo, tant'è vero che dobbiamo sempre chiedere altri scatoloni perché non sono mai sufficienti quelli che ci vengono consegnati. Quindi inoltre, proprio in questo periodo in cui si parla tanto di pace, noi crediamo appunto che la pace vada costruita e la scuola è il luogo di costruzione di pace, uno dei tanti. Attualmente sono una quarantina le famiglie assistite nei territori di Lanciano e Ortona, spiega il presidente del Banco di Solidarietà, Francesco Giancristofaro. Il Banco di Solidarietà di Lanciano e Ortona si occupa poi della distribuzione di generi alimentari attraverso la consegna di un pacco mensile alle famiglie. Attualmente assistiamo circa una quarantina di famiglie che ci richiedono aiuto e la bontà di questo gesto è garantita dalla consegna personale a domicilio di questi pacchi. Grazie.